Internet ci ha dato la possibilità di elaborare questi biglietti da visita molto costosi. Ma dei progetti ce ne stanno sempre in fiume, quelli che effettivamente riescono a leggersi sulle loro gambe, a essere effettivamente concretizzati, cioè quella cosa che permette, capito, i piani di allineati che permettono di lasciare la cosa, direi che questa è una cosa di favorevole, da campi propizzi, come cazzo si dice? Aiutatemi, fatemi comprare un avocado, vai. Vai, alla prossima. La so questa. Sì? C'è l'aiuto da casa? No. No, a casa non c'è nessuno. Poi mai contassi a nessuno, non mi serve qualcosa. Sei solo. Sei solo. Volevo chiederti, pensi di essere amato? Penso di essere amato, in generale. In generale, strada, tipo, mi ha amato. La gente mi incontra questa data, mi cresca, io non lo so, mi costo da fare, dire poi. Sono un po' leggero. Che cosa ne penso? Eh, che no, sabato mattino, cioè, qua sabato mattino, non lo so, la gente si sta qua a giocare a palla, o, non so, a bicicletta, o sta a Roma webcast. Non lo so. Un target variegato, direi un target variegato. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, grazie. Grazie.